e fa chi svega e vi fa questo qui è locca mi torni da 30 centimbre che ne sono da un po' due questo qui è il nuovo video perché sabato non ho fatto più video per qualche mese perché ero fraga con i miei in vacanza e questo qui è il vlog alla sagra questo migliore non c'era ma andiamo a bloccare la celza andiamo una colmica ho mangiato l'espressione di si vuole è la fottuta vita ma lo stai su youtube lo sai non è un selfie si raga questa era una cosa da fare lo sai che stai su youtube? la musica dietro di me ma non balla perché c'è una musica di merda uè uè fra lo sai che stai su youtube? perché? lo sai che stai su youtube? no no non voglio sono appeso qui guarda senti dove sei stato? è su youtube lo sai lo sai che lui non è stato in vacanza ed è pure vero se lo lo metto su youtube è in vacanza è andato al lago con la mia amica è vero è vero con la tua amica ma non è vero con il sarò oia sono tutte cazzate andrà un coglione tanto simone sembra un prigione con la rabbia possiamo salvare un simone selvatico mentre vediamo schon sie le 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 ma